Dottor Falcone, che opportunità offre il lancio di un fondo specializzato nel settore health care? Sicuramente per quanto riguarda l'Italia è qualcosa di straordinario, per due ragioni. Uno perché l'Italia offre tantissime opportunità. Siamo il secondo produttore al mondo di principi attivi, settimi per qualità nella ricerca e nei brevetti, per cui per un investitore è un luogo fantastico dove andare a cercare opportunità su cui investire per far crescere aziende e ricerca. E dall'altra parte gli investitori hanno sempre più bisogno di specializzazione, di focus e di capacità su un settore come questo. Grazie dottore.